Ciao a tutti amiche e amici di Volonbright, siamo qui oggi ad Aria di Autonomie, il convegno annuale del progetto Aria situato alla scuola Holden oggi il 3 febbraio 2020. Sono qui con Sonia Schellino vice sindaca della città di Torino e Monica Locascio invece direttore della divisione dei servizi sociali. Vi farei un paio di domande. Sonia qual è il significato per la città di Torino di un convegno sul percorso di autonomia giovanile? Per noi è importante in quanto questo progetto è uno dei progetti nei quali crediamo molto e abbiamo sviluppato molto nell'ultimo anno. È il progetto di Aria che è questo il convegno annuale, ogni anno ci si incontra per approfondire un tema che riguarda i giovani, che interessa la loro vita e il loro futuro e l'autonomia è sicuramente uno di questi temi. Quindi è importante fare delle riflessioni ma è anche importante avere queste cadenze che una volta all'anno ci si dica a che punto siamo, cosa stiamo facendo per l'autonomia dei nostri ragazzi, cosa vogliamo fare nei prossimi anni. La programmazione e fermarsi ogni tanto a riflettere credo siano fondamentali. Ecco, allora cosa stiamo facendo? Quindi il Comune come si muove per assicurare questo percorso? Beh, intanto ogni anno cerchiamo di aggiungere qualcosa. Quest'anno è l'anno in cui abbiamo inaugurato Spazi Reali, che è uno spazio di autonomia e un luogo fisico e anche una rete perché è un luogo fisico all'interno dei giorni reali ma è anche una pagina Facebook, una network virtuale di ragazzi che parlano del loro futuro, dei loro problemi, della loro autonomia, parlano un po' di tutti i temi, dal lavoro all'abitare, alla consapevolezza di sé, alla crescita, al rapporto con la famiglia, all'apporto con le famiglie affidatarie e per chi non è in una famiglia tradizionale. Insomma, si confrontano e si confrontano con qualche adulto che in modo il più possibile discreto cerchi però di dare input e di essere un punto di riferimento. Grazie. Invece Monica, l'autonomia dei giovani è un tema di servizi sociali e basta oppure viene affrontato insieme alle altre divisioni? È un tema sicuramente trasversale già all'interno della nostra divisione che non è solo servizi sociali per come li conosciamo classicamente ma è una divisione che si occupa di inclusione tant'è che ci si occupa anche di abitare, ci si occupa di percorsi occupazionali e lavoro quindi deve essere una cifra trasversale. Lavoriamo in collaborazione anche con le altre divisioni che si occupano di giovani, di cultura, chiaramente è una, come dicevate, una cifra che deve costruire un mosaico, è un mosaico sia interno all'amministrazione sia di sistema ed è per questo che ci siamo posti come dei facilitatori di una rete che possa crescere, che possa autodeterminarsi in un percorso che forse dalla coprogettazione sta assumendo forse addirittura un ruolo di coprogrammazione. E a tal proposito cosa fa nel concreto la divisione? La divisione, come citava la vice sindaca, lavora costantemente, quindi ci sono dei colleghi che lavorano insieme alle associazioni, insieme ai giovani, nel progettare un ambito e parecchie attività che sono molto diversificate, mette a disposizione gli spazi, ha aperto nuovi ambiti di possibili progettualità nell'ambito del piano inclusione, che è un piano ampio che appunto sta gemmando progettualità relative appunto all'abitare, agli inserimenti lavorativi e quindi come direi un facilitatore rispetto alle opportunità di crescita e di autonomia. Allora grazie e buona continuazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.